Uno scempio istituzionale e territoriale che va bloccato. Così il sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, commenta la cancellazione del collegio uninominale di Teramo. Siamo pronti a combattere a tutti i livelli istituzionali, ha aggiunto il primo cittadino. Proposta sbagliata, uno scempio contro il territorio. Insomma, in parte frutto della riforma costituzionale approvata con un referendum che di fatto ha convalidato, ha approvato una riforma costituzionale sbagliata, parziale e che ha confuso l'attacco alla cattiva politica con lo svilimento della rappresentanza istituzionale e territoriale. Questo in parte nell'effetto, ma non è l'unico effetto. Questa scelta è anche la conseguenza di una forte debolezza che a livello di rappresentanza politica istituzionale a Roma, in Parlamento e in Governo, purtroppo continuiamo a scontare da tanto tempo. Quindi dobbiamo assolutamente come istituzioni del territorio fare squadra e far capire quelle che sono le esigenze del territorio stesso, a tutela della rappresentanza politica istituzionale territoriale. Questo è fondamentale. Non si può svilire la rappresentanza territoriale, non si può svilire il rapporto tra il Parlamento e i territori. È vero anche che chi ha votato sì su questo territorio oggi contesta questa proposta. Sì, diciamo che, ripeto, è sicuramente una conseguenza di quel referendum sbagliato, di quella scelta sbagliata. Dal punto di vista della riforma costituzionale, perché è parziale, perché è impostata male, perché è legata soltanto ad un taglio. Ma non è solo l'effetto di quel referendum. È anche una scelta politica di una legge elettorale che evidentemente va rivista. Quindi a questo punto modifichiamo la legge elettorale, inseriamo e insistiamo per una forma elettorale totalmente proporzionale, magari per collegi plurinominali, oppure trasformiamo tutti i collegi in collegi plurinominali, in modo tale che tutti i territori vengano rappresentati. Quindi la legge elettorale deve essere rivista. Però mi faccia dire questo, la democrazia è un valore assoluto, soprattutto quella rappresentativa che è stata svilita nel corso degli anni, soprattutto di questi ultimi anni, ma deve esserlo sempre, non soltanto quando ci accorgiamo che un meccanismo elettorale conviene meno di un altro.